L'ASL di Pescara ha attivato lo sportello demenze, ovvero un punto che serve all'utenza dell'ASL di Pescara per dare informazioni sulla patologia, su come gestirla, sulla retta assistenziale, quali risorse ci sono, come accedere ai servizi, ma anche per tutto ciò che riguarda la conoscenza della patologia, che è cronica e degenerativa. La dottoressa Maria Cristina Lupinetti, responsabile del progetto. Che cos'è lo sportello demenze? Lo sportello demenze è uno sportello per l'utenza, è uno sportello per i cittadini, malati, non malati, familiari, i caregiver spesso, cioè le persone che seguono e assistono le persone che hanno la demenza, che è una patologia degenerativa. È uno sportello dove si troveranno disponibili due professionalità, un assistente sociale e uno psicologo per affrontare le tematiche principali che affrontano i familiari, che sono fondamentalmente la gestione dell'iter assistenziale sanitario. Nell'ambito del progetto, entro la fine dell'anno, si svolgeranno degli incontri programmati di carattere informativo per i caregiver, ovvero per i familiari, con dei tecnici che parlano e contestualmente anche per i pazienti stessi. Sono chiamati caffè Alzheimer, non basta più insomma la cura del malato, bisogna avere attenzione verso le famiglie che hanno un paziente a casa affetto da tali problematiche. Le demenze in generale si caratterizzano per il lento declino delle facoltà mentali? Sì, prima di tutto è la demenza di Alzheimer, la domanda più frequente è che differenza c'è. Non c'è una grande differenza, nel grande gruppo delle demenze, che sono le sindrome che danno questo decadimento cognitivo progressivo, la prima, quella che ha una genesi degenerativa, cioè i neuroni muoiono, è la malattia di Alzheimer, ma ce ne sono tante altre che hanno una prevalenza importante. Parliamo al mondo, 35 milioni di persone che secondo le stime dell'OMS sono destinate a raddoppiare dal 2010 al 2030 e a triplicare fino al 2050. Pescara con 120 mila abitanti, ha almeno 2.500-3.000 famiglie con casi di demenza. Parliamo di demenza conclamata, se ci mettiamo anche le forme iniziali, disturbi isolati di memoria, le forme prodromiche, i numeri salgono. La vera e propria piaga? È un problema serio per chi ce l'ha, per chi assiste il familiare, ma anche per la sanità. Non sono persone che devono andare nei reparti per acuti, a meno che non abbiano patologie acute, sono persone che devono essere gestite nella rete assistenziale e possono gravare anche economicamente, per fare un mero discorso economico, sul sistema sanitario italiano.